la zanetta si è scaldata subito ragazzi, guardate un po', guardate che è buonissima un bel papavero iniziamo bene i funghi e palla c'è un po' di tutto oggi gambe sottile, gamba lunga guardate che frittella questa ci sono anche quelli belli grassi però ragazzi guardate un po' sorprese direi che ci siamo, cosa ne pensate guardate anche il fratello direi che merita guardate un po' guardate un po' guardate un po' guardate un po' due dei bei bossolotti guardate che belle c'è la bomba del giorno guardate che papavero ora ci viene delle belle bistecche ora ci viene lo prendiamo lo stesso dai mirtelli nella foglia è già un po' mezzo cavato ci vedete passato qualche fungaiolo un animale non lo so adesso conclude la giornata si vede proprio questo papavero qua ragazzi vi saluto vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti